C'è un'altra parte, ok, quindi registriamo, ok. Mi è venuto in mente nella pausa, ecco, non vi ho fatto vedere cosa capitava nel momento in cui avessimo tolto la wait, no? Col den non possiamo farlo perché se scriviamo den ovviamente la promise è stata risolta. Se togliamo la wait, ecco, quello che viene fuori è che exams è una promise da risolvere e non è ancora risolta e dobbiamo aspettare. Però appunto se o la scriviamo col punto den oppure ci scriviamo await e allora con await ovviamente assume il valore che abbiamo scritto nel resolve. Se tutto è andato bene, se non assumerà il valore, no, non assume il valore reject e quella wait viene fuori un'eccezione. Ok, va bene, questa era solo una piccola prova che potete poi fare per conto vostro. Veniamo invece all'argomento di oggi, abbiamo solo un'oretta ma dovremmo starci, è un'introduzione più che altro all'architettura web, che sono ovviamente la base della nostra applicazione perché tutto il corso appunto si chiama applicazioni web. E quindi dobbiamo prima di tutto fissare le idee su come funziona il web, tanto il web in generale, vabbè, lo sappiamo, non si è nei documenti cliccabili, questo è l'inizio, però come funziona adesso che viene utilizzato per realizzare applicazioni, no? Quindi dobbiamo cercare di capire che cosa interagisce con cosa, dove, con che protocolli e quali sono i pattern più comuni per realizzare le applicazioni web. E noi sceglieremo uno che è quello della single page application e seguiamo quello. Ecco, notate bene che tutti questi argomenti adesso appunto li menzioniamo, ma poi più avanti nel corso li andiamo ad approfondire meglio. Per esempio parleremo di CSS, HTML, vabbè, HTML è semplice, però CSS, che è il modo di organizzare, mettere lo stile sulle pagine, eccetera, e poi ci sarà una lezione apposta su quello. Parleremo appunto del DOM, che è il modo in cui vengono strutturati i contenuti, rappresentati i contenuti visualizzati nella pagina all'interno del browser, che può essere manipolato tramite JavaScript e parleremo poi di quello e così via. Quindi questa è solo un'introduzione in carattere generale per muoverci in un contesto che poi, diciamo, abbiamo tutti, tutti conosciamo nella stessa maniera, un punto di partenza comune. Quindi questa è la tipica applicazione web in cui abbiamo un utente che interagisce, interagisce con un frontend, che fondamentalmente vuol dire il browser, che visualizza qualcosa sullo schermo del calcolatore, no? L'utente inserisce dei dati, di solito scrive qualcosa nei form, nei campi di testo, no? Vi chiedono login, username e password, oppure vi chiedono registra i tuoi dati per la vaccinazione, metti il numero della testa sanitaria, il numero di questo, il numero di quello, eccetera, premio un bottone, e poi la pagina si aggiorna, visualizza dei risultati, no? Sul frontend ci sono tutta una serie di meccanismi che ci servono a interagire e a gestire la visualizzazione. Vi ho menzionato prima HTML, CSS e JavaScript, appunto, per la programmazione del comportamento dell'applicazione. Poi però c'è tutta una parte che è quella che approfondiamo meno in questo corso, facciamo il minimo indispensabile per riuscire ad avere la parte di frontend che funzioni, che, diciamo, gestisce la logica dell'applicazione. Questa può essere realizzata in qualsiasi linguaggio, che, diciamo, si presti a questo tipo di programmazione, incluso JavaScript, come facciamo in questo corso, più che altro per semplicità, ma vi dicevo una di queste volte che anche a livello pratico, proprio a livello industriale, in alcuni casi viene utilizzato. La logica dell'applicazione cosa significa? Significa che, che so, se io mando delle informazioni che devono essere salvate, qualcuno prende e li salva in un database. Oppure, non so, richiedo delle informazioni, devo scaricare dei file, il vostro Google Drive è accessibile via web, piuttosto che un'altra applicazione che vi consente di scaricare file, di caricare dei file e così via. Queste cose vanno memorizzate da qualche parte, quindi c'è qualcuno che si preoccupa di svolgere queste operazioni. Quindi un programma scritto in qualche linguaggio che svolge queste operazioni. Il tutto mediato da un server web, perché il protocollo qui è uno solo, quello che viene utilizzato, che è quello HTTP, Hypertext Transfer Protocol, che è quello utilizzato da tutti i browser web. Ok, quindi qui abbiamo il browser, in cui appunto ci sono tutte queste, diciamo, tecnologie, cioè linguaggi, linguaggi vari, piuttosto che appunto modi di interagire. E quindi prima di tutto, guardando il browser, cos'è il browser? Il browser di fatto è un programma che gira localmente sul computer, un programma anche abbastanza complicato, cioè grosso e svolge tante funzioni, ed è fatto da tanti elementi, i classici elementi di un qualsiasi programma nativo, quindi c'è una finestra in cui potete cliccare, aprire, minimizzare, eccetera, eccetera, e poi ha un bar, un campo dove potete scrivere l'URL, la pagina a cui state accedendo, e poi c'è una parte libera di visualizzazione dove viene visualizzato il contenuto, e quindi verrà visualizzata anche la nostra applicazione. Quindi, quello che viene visualizzato è ciò che viene caricato dal server la prima volta che si accede, che il browser accede tramite il protocollo HTTP al URL indicato da voi. Quindi o conoscete l'URL, numero uno, qualcuno ve l'ha detto, vai su sistema Piemonte, no, cos'era, vaccinazioni, non mi ricordo più, punto IT, oppure incominciato da un URL che conoscete, google.com, questi motori di ricerca, i quali poi vi forniscono un link a un altro URL, e così via, così fate quello che viene chiamato navigare sul web, cioè cliccare su vari URL. Ogni volta che cliccate su un URL è come se l'aveste scritto qui, e quindi il browser va a chiedere a quel server che è responsabile di quell'URL di dargli le risorse corrispondenti, che sono fondamentalmente una risorsa HTML, che è quello da cui si parte, che è la descrizione base della pagina, che contiene eventualmente riferimenti ad altro, il CSS per lo stile, quindi un'altra risorsa, un'altra risorsa per il codice, JavaScript, altre risorse, per esempio immagini, audio, video, eccetera, eccetera, che devono essere caricate e visualizzate all'interno della pagina. Queste risorse possono essere fisse, immagazzinate, come tipicamente sono le immagini, qualcuno le ha messe e semplicemente le scarichiamo, oppure anche generate dinamicamente dal server, come succede spesso per l'HTML, quindi per la costruzione della pagina. Questo però è più una questione di filosofia di come creare il contenuto e rientra più nell'applicazione web di cui diciamo tra poco. Dunque, l'HTML è un linguaggio particolarmente semplice, basato su tag, penso che in questo corso, rispetto all'anno scorso, cerchiamo di non spendere tempo più di tanto, perché è qualcosa che riuscite sostanzialmente a guardarvi quasi per conto vostro. Noi come sempre sottolineeremo tutti gli aspetti importanti, quindi ci focalizzeremo per esempio sull'HTML 5, sui controlli, quindi sui form, quindi tutti gli elementi interattivi che sono poi quelli che ci interessano di più, ma tutto il resto veramente sono cose abbastanza di basge. Il tag che ci serve a creare un paragrafo per scrivere qualcosa, il tag che ci serve a creare una tabella, una lista, e fondamentalmente abbiamo finito. Perché? Perché poi tutta l'impaginazione, tutta la gestione avviene con un sistema diverso, perché avviene con questo CSS, su cui invece spenderemo un pochino più di tempo, perché questo dobbiamo conoscerlo un pochettino meglio, perché è quello che poi dà forma al contenuto. L'HTML lo potete vedere come il contenuto della pagina, nel senso di contenuto logico. C'è un paragrafo, c'è una tabella, c'è qualcosa. dove viene visualizzato, come viene visualizzato, con che colori, con che forma, che grandezza, eccetera, è tutto determinato da quest'altro linguaggio che descrive una serie di regole che si chiama appunto stylesheet, SS sta per stylesheet, cioè un foglio di stile, uno stile col quale vengono visualizzati i vari contenuti all'interno della pagina e include come si visualizzano, colore, dimensioni, eccetera, ma anche come si posizionano e così via. Il browser ci consente di interagire, quindi l'utente guarda, guarda quello che c'è nella finestra, interagisce con degli elementi dinamici, non tutto è dinamico, ma alcuni elementi sì, per esempio i bottoni, i campi dove posso scrivere, i link che posso cliccare e così via. In altre parti della pagina faccio qualcosa, ma non succede nulla. Nel momento in cui decido di navigare ad altre pagine, quindi o cambio l'urla, ma allora sto abbandonando il mio sito, di conseguenza nel nostro caso la mia applicazione, oppure lo faccio cliccando su degli elementi sensibili, come appunto i link, e cliccare su un link porta ad una nuova pagina, e quindi tutto quanto viene ricaricato. Interagire invece semplicemente con la pagina genera degli eventi dentro il browser che possono essere catturati dall'ambiente di esecuzione interno al browser. Nel nostro caso vuol dire del codice JavaScript che scriveremo e faremo eseguire all'interno del browser. E chiaramente, avendo a disposizione questa possibilità, faremo in modo che quando catturiamo degli eventi che ci interessano, andiamo sempre da codice JavaScript a modificare l'aspetto della pagina senza andare a ricaricare niente altro dal server, a meno che non ci servano delle informazioni, ma verranno fatte in maniera diversa dal click dell'utente che ricarica una nuova pagina. Ok. Come funziona un browser? Come vi dicevo, è un programma abbastanza complicato, non, diciamo, cerchiamo di capire solo i pochi elementi fondamentali che ci servono. C'è chiaramente un'interfaccia utente, quindi la finestra con la barra, con la X per chiuderla, se vogliamo, eccetera, e questa è la classica interfaccia utente di un'applicazione. Poi c'è un motore di funzionamento del browser che decide che cosa fare di tutto quello che succede nell'interfaccia utente, quindi se noi scriviamo un nuovo url e battiamo invio, qualcuno deve capire che dobbiamo caricare una nuova pagina, fa questa parte, che si interfaccia a questo motore di rendering che è quello che è responsabile per visualizzare tutto il contenuto e quindi per visualizzare tutto il contenuto deve essere in grado, uno, di caricarlo dalla rete, due, di interpretare il contenuto stesso, quindi di capire il formato, se HTML è il contenuto, se CSS è il modo di visualizzarlo, di sporlo, e se è codice JavaScript, darlo all'interprete JavaScript perché questo venga eseguito. E poi se ci sono da realizzare degli elementi di interfaccia utente, come per esempio dei bottoni, delle liste, delle cose selezionabili, eccetera, si avvale anche della parte dei user interface, tipicamente quella del sistema operativo su cui gira. Ed è questo il motivo per cui se non dato uno stile particolare a questo tipo di controlli, molto spesso se siete su un sistema Windows piuttosto che Linux, piuttosto che Mac, piuttosto che non so che, questo tipo di controlli hanno un aspetto un po' diverso perché non sono generalmente disegnati dal browser, ma ci si avvale di quelli del sistema che sono gli stessi che vengono usati nell'applicazione inattiva. Ultima cosa che andiamo a menzionare è che il browser ha la possibilità di ricordarsi alcuni dati. Quindi c'è questo strato di persistenza dei dati. Di solito sono pochi dati, perché voi sono separati per ogni sito a cui fate accesso. Però avere la possibilità di ricordarsi delle piccole quantità di dati può essere utile perché così diciamo il browser si fa riconoscere dal sito e certe cose non ne dovete più ripetere. La cosa classica è il tipo di dato classico che viene immagazzinato è il cookie. Cookie vuol dire biscotto in inglese, nel senso di piccolo pezzetto di dato che fa sì che se voi lo inviate al server e questa cosa viene fatta automaticamente dal browser quando c'è un cookie che corrisponde all'urlo di quel server quel server vi riconosca e quindi non vi chieda più tutta una serie di informazioni che magari vi ha chiesto in precedenza e semplicemente si ricorda che voi siete voi perché avete quell'identificativo. Non è l'unica cosa che si può immagazzinare oramai nei browser moderni ci sono dei sistemi anche più sofisticati del semplice cookie che alla fine è una stringa. Un cookie vuol dire fondamentalmente una stringa di carattere più o meno casuali decisi impostati di solito dal server e che vengono appunto ricordati per un certo tema. Ci sono anche dei meccanismi più sofisticati come appunto questo local storage specie di DB tipo appunto tipo l'SQLite che stiamo utilizzando e così via però interamente gestiti dal browser che noi praticamente non utilizzeremo in questo corso ma ogni tanto nelle applicazioni può essere utile averli perché così consentono a certe applicazioni di funzionare anche in maniera offline sapete per esempio se utilizzate che so Google Doc o qualcosa di questo simile ogni tanto vi dice ma vuoi utilizzare questo documento offline? Sì ok clic che cosa succede? succede che un po' di dati vengono immagazzinati localmente al browser che se voi non avete la rete non potete andare a chiedere informazioni al server chiaramente se volete vedere qualcosa e dovete prenderlo localmente non c'è alternativa però deve esserci un posto sicuro dove andare a immagazzinare le informazioni in una maniera che siano accessibili dal browser notate bene che il browser cioè il codice che gira nel browser deve essere abbastanza isolato da tutto il resto del sistema perché altrimenti qualsiasi codice scaricato da chissà quale sito potrebbe andare a come dire accedere alle informazioni che girano che ci sono presenti nel vostro computer locale chiaramente questo non è un bene in tutti i browser questo l'abbiamo già visto sono presenti degli strumenti di sviluppo che noi andremo ad utilizzare in caso di necessità per esempio prendiamo il sito ecco portale della didattica questo il mio portale della didattica in ogni browser c'è un posto diverso dove sono a disposizione questi strumenti di sviluppo questo è Chrome developer tools a destra a sinistra sotto non lo so ecco dipende abbiamo la console javascript abbiamo tutte le risorse caricate dal sito abbiamo a disposizione diciamo possiamo sapere ecco prima di cliccare su applicazioni web tutte le richieste di rete che vengono effettuate tutte le cose che vengono caricate e così via possiamo fare il debug completo della nostra applicazione anche perché possiamo andare a isolare e vedere che cosa corrisponde ogni singolo elemento questo è html della pagina visualizzato anche in una maniera comoda perché appunto gli elementi si possono aprire chiudere eccetera e si può visualizzare passandoci a sinistra qual è il codice a destra e viceversa quindi è molto co e qui vedete le regole css eccetera quindi sappiate che c'è questo strumento e c'è in tutti i browser e questo non è il browser speciale che ho scaricato perché ha questi strumenti c'è semplicemente in tutti i browser quindi è incluso e non avete bisogno di installare niente di diverso del browser standard solo che chiaramente se non siete sviluppatori come invece siete voi l'utente normale non se ne fa nulle quindi non sa neanche che esiste questo ok modello del documento che viene caricato il v3c che è l'ente di standardizzazione in ambito web per queste tecnologie World Wide Web Consortium ha standardizzato un'interfaccia che si chiama DOM document object model per consentire ai programmi di accedere e manipolare la struttura dati che costituisce il documento visualizzato fondamentalmente all'interno del browser e quindi la struttura dati che corrisponde a quello che avete scritto in codice HTML che è la maniera che i browser usano per rappresentare il documento da da presentare all'utente è supportato da tutti i browser ci sono diverse versioni però diciamo oramai siamo giunti a un punto in cui c'è un modello abbastanza come dire sofisticato e ci consente di fare una serie di operazioni abbastanza sofisticate direttamente anche dal codice dal codice JavaScript quindi aver standardizzato l'interfaccia di gestione del DOM ci consente di usare codice in particolare JavaScript per manipolarlo e perché è importante farlo perché tramite il codice JavaScript noi vogliamo sulla base delle interazioni con l'utente andare a modificare quello che c'è presente nella pagina andare a aggiungere degli elementi in una tabella eliminarli creare una nuova lista creare un nuovo paragrafo scrivere qualcosa visualizzare una nuova finestra eccetera la finestra è forse una cosa un po' più a parte però fondamentalmente ci consente il DOM di accedere appunto e modificare manipolare la struttura del documento e in più c'è anche questo pezzettino che ci fornisce delle API standard verso il browser per poter gestire l'interazione col browser ci sono certe cose per le quali è responsabile il browser e non direttamente il documento che so appunto io voglio impostare un timeout non è che sia specifico del documento non voglio voglio dire tra due secondi fai qualcosa devo dirlo al browser che si ricordi e mi chiami dopo due secondi per fare la cosa che ho detto ok vi dicevo prima del CSS che fondamentalmente noi useremmo più che altro per definire il layout layout inteso come organizzazione dei contenuti all'interno della pagina e si può usare anche per la presentazione però di nuovo non vogliamo partire da zero e questo corso ha una dimensione limitata come tutti e quindi cercheremo di usare elementi il più possibile già fatti ben fatti ben pre-confezionati ci sono delle librerie CSS già a disposizione per la maggior parte degli elementi che compongono pagine web quindi bottoni campi di testo liste e cose di questo tipo quindi il più possibile useremo quegli strumenti però almeno diciamo la disposizione dovremmo farla noi perché capire se una cosa la vogliamo a sinistra in mezzo a destra eccetera questo è compito nostro come programmatori dell'interfaccia dell'applicazione quindi è quello su cui ci focalizzeremo quando andremo a parlare brevemente di CSS CSS è molto flessibile e ci consente anche di definire dei layout che si adattino automaticamente a diversi tipi di dispositivi quindi diverse risoluzioni schermo più piccolo più grande diversi tipi di dispositivi smartphone piuttosto che computer fissi sui computer fissi usate il mouse quindi il clic è molto preciso sui dispositivi mobili usate il dito quindi gli oggetti devono essere più grandi e appunto il posizionamento più difficile eccetera e quindi magari certi elementi possono essere adattati sulla base di dove vengono visualizzati facendoli più grandi più piccoli e così via differenti preferenze per esempio schemi di colore template voglio tutto tendente al nero piuttosto che tendente al bianco il tema nero il tema bianco eccetera differenti media piuttosto che ho visualizzato a video o stampato se lo stampo tante cose carine sullo schermo però non vengono bene nella stampa tanto vale eliminarle e così via e tutto ciò viene fatto in una maniera abbastanza standardizzata oramai c'è una versione CSS molto evoluta che gestisce questo in maniera molto standard questo è un piccolo preview di quello che vedremo il CSS il CSS è semplicemente un insieme di dichiarazioni oppure chiamiamole regole che vengono applicate a dei selettori cioè degli elementi HTML che quindi ne determinano l'aspetto e la la posizione insomma tutte queste proprietà che sono predefinite nel CSS che possiamo andare a impostare quindi questo è l'heading quindi la come si dice in italiano il titolo o sottotitolo di una sezione e diciamo che la vogliamo in colore blu è di font 12 punti quindi una certa dimensione e così via ma abbiamo ci sono tantissime proprietà che possono essere impostate al CSS oltre a quelle di posizionamento e così via che invece sono quelle che ci interessano di più perché appunto noi andremo a cercare qualcosa di già fatto per non metterci lì a fondamentalmente a fare i designer dal punto di vista dell'interfaccia invece di concentrarci sulla logica dell'applicazione che è quello che interessa in questo corso il javascript viene caricato come una delle tante risorse nel momento in cui viene caricata la pagina html mi ricordo urla urla corrisponde a qualcosa che deve essere un contenuto html il browser prende questo contenuto html lo interpreta e lì ci saranno dei riferimenti al css al javascript alle altre risorse immagini video audio quello che volete bene il javascript viene appunto caricato nel momento in cui è previsto dall'html che viene caricato dal browser a fronte di un certo urla che abbiamo messo o cliccato e viene eseguito all'interno del browser in una sandbox cioè in un ambiente molto isolato che per esempio non consente di accedere a diciamo a elementi al di fuori del browser stesso per esempio al file system del computer perché altrimenti chiunque potrebbe prendere e andare a girare sul vostro file system che sicuramente è qualcosa che non non desiderate nel momento in cui accedete a un sito e questo vi scarica un programma senza che magari neanche lo sappiate lo sappiate come capita nel momento in cui accedete a un nuovo sito non è che andate a vedere tutto il javascript che viene caricato però avete diciamo questa sicurezza del fatto che il browser impedisce automaticamente di effettuare certe operazioni non è possibile da parte del javascript effettuare certe operazioni per esempio tranne appunto casi no nessun caso particolare possono essere effettuate richieste di rete ma solamente verso il sito dal quale avete scaricato il codice javascript e così via quindi ci sono tutta una serie di limitazioni abbastanza strette proprio per evitare che chiunque scrive un programma poi vi induca ad andare sul suo sito scaricate javascript localmente e questo può andare a fare delle cose che voi non desiderate e non vi aspettate in compenso il javascript può accedere facilmente in modalità sia di lettura sia di scrittura alle API del browser come dicevamo prima quindi vedere cosa cosa mette a disposizione il browser quindi c'è tutta una serie di come si dice di informazioni relative al browser che possono essere rilevate per esempio qual è la dimensione della finestra di visualizzazione corrente che potrebbe essere utile questo è solo un esempio il timer impostare il timer come dicevamo prima e così via il DOM come abbiamo detto inclusi i form anzi soprattutto i form perché ci servirà soprattutto per quello per processare l'input dall'utente eccetera e i vari eventi e azioni corrispondenti non il fatto che uno ha fatto clic anche solo che ha spostato il mouse e così via perché vogliamo poter reagire a tutta una serie di eventi che avvengono ok quindi abbiamo descritto questo primo pezzo protocolli di comunicazione quindi la comunicazione verso il server il protocollo è uno solo l'http che tra l'altro dovreste già conoscere dalla laurea triennale il corso di rete corso di reti quindi il protocollo http si basa sugli URI quindi identificativi di risorse ecco qui ci aggiungiamo una cosa nel senso che abbiamo detto viene caricato l'html al momento in cui andiamo a fare delle richieste a fronte di un certo URI che scriviamo nella barra del browser ma il protocollo http può portare qualsiasi tipo di risorse nel momento in cui deve solo portare dati e succederà nelle nostre applicazioni perché l'URL viene caricato non dal browser direttamente scrivendolo nella barra ma dal programma javascript stesso il programma javascript stesso non è interessato alla pagina alla formattazione cioè solo al dato bene ci sono molti modi di trasportare questo tipo di dato e noi useremo uno dei modi più comuni che è quello formato testo cosiddetto json su cui anche su questo torneremo questo è il protocollo http il protocollo http è un protocollo in formato testo trasportato su tcp quindi il canale di trasporto a livello a livello inferiore è affidabile quindi non vanno persi caratte vengono automaticamente ritrasmesso tutto ciò che è andato perso eccetera eccetera quindi abbiamo un canale un tubo di comunicazione affidabile su cui noi scriviamo del testo meglio il browser scrive del testo secondo la logica il protocollo http header con tutta una serie di informazioni addizionali volendo il metodo poi i vari header anzi e a fronte a fronte della ricezione di questo il server interpreta il protocollo e risponde seguendo il protocollo stesso con una risposta che dice come è andata la richiesta ok sono in grado di fornirtelo c'è stato un errore eccetera una serie di header e se c'è un contenuto ci sarà una linea vuota e poi il contenuto che può essere tipo testo binario eccetera può essere trasportato qualsiasi tipo di dato quindi il body che è quella parte inferiore della risposta può essere o vuota il protocollo specifica come può essere in ogni caso può essere vuota nel caso per esempio ci sia stati errori oppure ci sono dei metodi che non prevedono il body perché si chiede solo che so è cambiato qualcosa e la risposta è solo sì no possono essere contenuti di tipo statico quindi qualcosa che esiste nel server e il server sa dove andare a recuperarle quindi va a leggere il file lo prende il suo contenuto e lo mette nel body della risposta oppure può essere anche creato dinamicamente al volo sul server per esempio da un template oppure possono essere dati letti da qualche parte da un database eccetera opportunamente formattati in un linguaggio che sia adatto alla nostra applicazione perché HTTP può portare qualsiasi cosa basta dirgli che tipo di dato è e lui lo porta perché è trasparente dopo quella linea vuota può portare anche dati binari come succede peraltro per le immagini video e così via ok quindi HTTP non interessa il significato del payload ha solo un campo nel header in cui volendo possiamo dirgli che formato è il payload quindi che sono immagini compresse piuttosto che contenuto JSON piuttosto che HTML e così via e quindi può portare qualsiasi cosa che può essere contenuto web HTML CSS JavaScript che fondamentalmente questi sono su un testo usato dal browser oppure dati di nuovo in formato testo in formato binario eccetera che tipicamente vengono usati dal codice JavaScript perché il browser non può interpretarli direttamente quindi sono degli array di byte che vengono di string nel caso di dati testuali che vengono passati a delle funzioni JavaScript che devono elaborarli e sarà compito nostro andarle a usare e elaborare ok quindi nel momento in cui facciamo un'operazione di accesso al web dal client col browser verso un server web che usa questa logica diciamo di creazione dinamica dei contenuti andiamo a fare quello che vedete qui sulla slide abbiamo un URL sul quale peraltro ogni tanto si possono anche nel quale si possono codificare dei dati inizialmente al primo accesso di solito non abbiamo nessun dato da trasmettere ma a un certo punto per esempio quando andiamo a fare delle richieste e così via potrebbero anche essere trasmessi dei dati tipo dammi tutti dammi i primi 50 della lista dammi che so qualche cosa relativo a dammi solo la colonna voti dammi solo la colonna nomi dei corsi e così via possono essere anche inclusi nell'URL qui di fatto l'URL viene interpretato come un comando per il server web che scatena un'esecuzione di un programma sul lato del server che è in grado di interpretare i parametri e di fare ciò che viene richiesto il risultato del codice HTML che viene spedito indietro nella parte body dell'HTTP come dicevamo che si appoggia sul protocollo TCP IP cioè affidabile dal punto di vista della comunicazione e viene mandato al browser il quale deve interpretarlo deve capire se deve caricare del resto eccetera e poi deve semplicemente visualizzare questi sono i metodi HTTP noi ci concentriamo fondamentalmente sui primi 5 forse add neanche ci serve così tanto che è quello che verifica appunto solo se qualcosa è cambiato oppure no quindi get post put delete se volete poi patch ma insomma fondamentalmente sono questi perché poi parleremo della filosofia che si basa su questi metodi quindi ognuno nella specifica di HTTP RFC 7231 ha il body opzionalmente o no quindi obbligatorio o no lo prevede o non lo prevede ha una logica di funzionamento per esempio idempotente che vuol dire se viene rieseguito dà lo stesso risultato sì o no quindi non modifica lo stato sul server scusate dà lo stesso risultato è un po' ambiguo è chiaro che se chiedo una lista di un qualcosa se la lista è cambiata cambia la lista ma se la rieseguo non è che è cambiato sul server lo stato cioè non ho messo qualcosa di nuovo per cui se lo eseguo due volte ho messo due volte la stessa cosa come invece capita per esempio col post il post dico aggiungi un elemento inserisci un nuovo utente clicca e se faccio di nuovo la stessa cosa ne inserisco un secondo non è che solo perché l'ho inserito prima non si inserisce il secondo se invece la lista è rimasta uguale una lista è rimasta uguale se io rifaccio get ottengo lo stesso risultato se qualcuno l'ha modificata da un'altra parte ovviamente otterrò il risultato aggiornato ok comunque torneremo sul significato di questi metodi quando parliamo poi di rest parliamo un attimo brevemente della parte lato server che è fondamentalmente il web server con tutto ciò diciamo adesso connesso il server è in grado di servire le pagine html quindi di dare quel contenuto html da cui il browser parte per interpretare il contenuto della pagina ma è in grado anche di servire tutte altre risorse in particolare i file ai quali ha accesso e che sono stati mappati nella configurazione del server web su certi url perché il server web deve sapere come interpretare l'url e cosa farci con quest'url se qualcuno gli ha detto guarda gli url che iniziano in una certa maniera sono file e quindi prendi la seconda parte e vai a cercare un file con quel nome ok il server web andrà a cercare quel file e lo restituisce nel body della risposta certi url invece saranno mappati su operazioni dinamiche per esempio restituiscono dei dati e quindi quell'url richiesto con quel metodo scatenerà una serie di operazioni che va a fare accesso al database e ci va a recuperare delle informazioni ritornate in un certo formato deciso da chi ha sviluppato tutto il sistema e noi useremo appunto la logica rest per andare a implementare un sistema di API perché alla fine questi questi url è come se fossero dei nomi di funzioni da richiamare sul server diciamo così ai quali corrisponde una certa logica applicativa e che andranno a recuperare dei dati da qualche parte calcolati in qualche maniera di solito tirati fuori da un database e elaborati e restituiti in un certo formato vi dicevo noi ci focalizzeremo sul JSON ok ma riparleremo di questo l'importante è capire l'architettura in questo momento la cosa su cui ci stiamo focalizzando l'ambiente e poi approfondiamo i vari aspetti ok quindi server web o legge le risorse o le genera le genera richiamando dei programmini apposta che creano la risorsa quindi nel momento in cui ci sono pagine dinamiche queste sono appunto generate da dei programmini che quindi sono automaticamente invocati e fatti girare dal server web il server web che compito ha ha il compito principale di interpretare il protocollo HTTP qualcuno deve per prima cosa capire come funziona HTTP e interpretare tutti quegli header che abbiamo visto nell'esempio una volta risolto questo problema si può andare a cercare di soddisfare le richieste quindi preparare secondo il protocollo HTTP una risposta quindi il server web gestisce la parte di header e poi o la risposta è un contenuto statico quindi preso dal file system un file semplicemente trasmesso oppure qualcosa è il risultato di un'elaborazione quindi di dinamico che viene preso e messo nella risposta in teoria a livello logico c'è solo una richiesta un'unica connessione HTTP per ogni richiesta ogni richiesta è indipendente poi a livello pratico diciamo la cosa è un po' più rilassata però a livello logico ogni richiesta è da considerarsi in maniera indipendente poi chiaramente creare un nuovo processo una nuova connessione HTTP eccetera connessione TCP sotto HTTP per ogni richiesta non è molto pratico quindi sono intervenuto per una serie di ottimizzazioni però a livello logico ogni richiesta HTTP è indipendente dalle altre e questo è sia un vantaggio e sia uno svantaggio in un certo senso ed è il motivo per cui ogni tanto abbiamo bisogno di identificativi come i cucchi e così via che facciano sì di collegare la richiesta corrente con richieste precedenti già effettuate per esempio quando queste richieste richiedono di avere già effettuato un passo di autenticazione piuttosto che di far riconoscere al serve che abbiamo già fatto qualcosa in passato ma questo meccanismo dei cucchi per esempio che sono il tipico meccanismo utilizzato per collegare insieme le richieste è addirittura già standardizzato nell'http perché sono header http che vanno avanti indietro all'interno del protocollo stesso esistono tanti programmi software che sono in grado di realizzare la funzionalità di server web qui trovate i più diffusi c'è apash che sicuramente è stato in passato uno dei più diffusi questa linea azzurra c'è microsoft es internet information server mi sembra si chiami c'è questo verde increscendo nginx che è un altro apash nginx sono due server open source vabbè poi ci sono come dire i colossi del web tipo google ha fondamentalmente il suo server web più o meno derivato da versioni open e tutta una serie di altri che potevano essere più o meno attivi in passato quindi questa è più che altro una curiosità dunque quelli precedenti erano tutti i siti questi sono i siti attivi se andate a dare un'occhiata poi troverete anche la definizione ma probabilmente quelli che diciamo sono un po' più utilizzati o forse appunto sono ancora attivi fino a quella data non lo so comunque questa è proprio pura curiosità abbiamo questo server web apache appunto che è stato molto diffuso adesso sta un po' perdendo quota più che altro perché appunto ci sono questi competitors un po' più leggeri fondamentalmente soprattutto per i casi più semplici in cui oppure sono più efficienti per certi aspetti e quindi ogni tanto funzionano un po' meglio di quello che è stato come dire il server web predominante il software per realizzare il server web predominante in passato che appunto apache che magari avete già sentito nominare noi non usiamo nessuno di questi perché non ci concentriamo sul lato server e in più vogliamo usare javascript e la nostra soluzione è molto come dire grezza a un certo punto di vista ma molto efficace dal punto di vista del corso e come vi dicevo non è neanche poi così malvagia perché c'è qualcuno che addirittura lo usa a livello industriale come si fa realizzare un server web beh bisognerebbe scrivere qualcosa che processi il contenuto che viene ricevuto dalla rete e quindi essere in grado di accedere alla rete essere in grado di processare il contenuto sotto forma di string perché alla fine http sono sequenze di caratteri cioè string interpretare il protocollo http eccetera e quindi rispondere correttamente ai vari metodi http che vengono inviati dal client ebbene come riusciamo a realizzarlo ci avvaliamo di una libreria script siccome lo vogliamo fare in javascript che gira nell'ambiente di esecuzione node.js e la libreria di cui ci avvaliamo è questa express ce ne sono tante altre noi però abbiamo scelto questa perché è una delle più semplici non è la più semplice perché c'è già un modulo http dentro node però è veramente questo troppo di base non ci basta prendiamo questa libreria express che appunto è molto facile da utilizzare un po' come è un modulo come gli altri che abbiamo già visto faremo require express e poi creiamo un oggetto su questo possiamo attaccare i nostri il codice che implementa la funzionalità collegata agli URL che vogliamo utilizzare nel nostro server web ma su questo ci ritorneremo e tra l'altro è molto facile da estendere da utilizzare eccetera e già viene con tutto quello che ci serve per realizzare lo scambio di informazioni che di cui abbiamo bisogno nelle nostre applicazioni web in particolare per esempio processare il contenuto in formato json sia quando questo viene inviato dal client al server per esempio quando vogliamo inserire delle nuove informazioni sul server sia quando questo deve essere restituito indietro e così via quindi con pochi altri moduli aggiuntivi che vedremo mano a mano riusciamo a integrare il server web e farlo funzionare proprio con due o tre linee di codice molto semplici e farlo funzionare con i formati di dato che vogliamo andare ad utilizzare interpretare i parametri delle richieste degli URL di richiesta e così via comunque quando sarà ora ci torniamo sopra ecco ultimo elemento di nuovo non ci focalizziamo più di tanto su questo è che il server web che noi abbiamo detto realizziamo in questa maniera deve poi interagire con la parte di come si dice di che immagazzina i dati e questa parte di solito è o il file system o un database il file system diciamo per le risorse statiche è la cosa più semplice inutile mettere in un database una risorsa statica che è semplicemente un file un database ci consente di fare delle elaborazioni di dati come abbiamo visto negli esempi visti finora che so la lista degli esami i voti prese i singoli esami e così via avete fatto sicuramente seguito un corso di database quindi avete una idea sufficientemente buona di come organizzare un database per immagazzinare le poche informazioni che tratteremo in una nostra applicazione web quindi noi non ci focalizziamo sul progettare un database estremamente complicato perché le nostre applicazioni sono relativamente semplici certo bisogna sapere diciamo organizzare il database nel senso che appunto come nel caso di corsi esami dobbiamo arrivare al fatto che dobbiamo fare una tabella corso e una tabella esami perché un corso può essere seguito da più di una persona quindi se vogliamo mettere gli esami collegati a una persona quindi ci servirà una terza tabella con gli studenti e dobbiamo essere poi in grado di scrivere delle semplici query come abbiamo già fatto con una join che siano in grado di mettere insieme due tabelle tipicamente due se sono sufficienti sulla base di una condizione che magari è identificativo che so dell'utente o del corso e andare a tirar fuori le informazioni che ci serve con una select fare le insert e così via cioè cose veramente di base e non vogliamo fare una cosa complicata a questo lato per far ciò siccome appunto il metodo più classico è quello di usare appunto database accessibile interrogabile tramite linguaggio SQL ci stiamo focalizzando su quel SQLite che va bene per casi in cui diciamo non abbiamo richieste di prestazioni eccessive sia in termini di prestazioni proprio di tempo di esecuzione eccetera sia delle query sia di quantità di dati da utilizzare anche se in realtà per noi l'SQLite fa già fin troppo nel senso può gestire anche tranquillamente gigabyte di dati e no non può gestire la replicazione su server diversi e così via ma tutte cose che non ci interessano comunque c'è c'è il database e scusate il web server deve essere in grado di accedere ad un layer cosiddetto di persistenza dove i dati vengono mantenuti e appunto noi risolviamo il nostro problema semplicemente con l'SQLite potrebbe essere un qualsiasi database server ok c'è poi una domanda e non lo facciamo semplicemente per non complicare troppo perché abbiamo già node che gira se è un modulo di node scriviamo una riga nel nostro programmino lato server e abbiamo risolto il nostro problema se no dovremmo avere una terza cosa da avviare sul server dico terza nel senso che c'è il client quindi ciò che scriviamo sul browser ciò che scriviamo sul server e poi dovrebbe esserci ancora database server da avviare a far funzionare che è solo una complicazione inutile per il nostro corso per la gestione dei dati sarebbe meglio sfruttare il più possibile le funzionalità del database order by calcolo di aggregate eccetera oppure ritornare all'utente dati grezzi e elaborare successivamente con un javascript in un progetto realistico intendo e dunque questa è una domanda che la risposta dell'ingegnere è sempre dipende dipende ma dipende da cosa e dipende dalle esigenze dell'applicazione perché allora da un lato devo capire che cosa ha senso fare nel server web anzi scusate ancora prima che cosa ha senso fare nel database server nel nostro caso nel SQLite che cosa ha senso fare nella logica applicativa del server web che cosa ha senso fare sul client allora io comincerei a dire se porti siccome tra il frontend quindi il client e il resto c'è di mezzo una comunicazione che ha banda limitata e così via prima cosa devo capire ho davvero bisogno di trasmettere tutti i dati al mio frontend sì o no se devono essere tutti visualizzati la risposta è sì per forza ma se non devono tutti essere visualizzati ecco devo cercare di capire se mi servono se a un certo punto l'utente clicca e vuole vederli tutti cosa faccio decido che se li ho già caricati è meglio o decido che andrò a chiederli al bisogno queste sono le cose che devono essere decise quando viene implementata l'applicazione sulla base delle risposte che diamo a queste domande decido dove andare a fare l'operazione cioè se tanto so già che finisce che ho bisogno di tutto e allora tanto vale che do tutto e poi se c'è da fare una visualizzazione più compatta la farò sul client quindi nel frontend se invece all'inizio quando entro voglio solo avere una visualizzazione complessiva e poi dopo solo se l'utente clicca solo se l'utente fa qualcosa cioè bisogna caricare il resto forse ha senso aggregarli sul lato del back end ha senso aggregarli nel codice o nel server del database dipende di nuovo da che cosa devo fare se un'operazione particolarmente complicata le aggregerò nel codice perché magari non riesco a esprimere in codice SQL se invece che so devo aggregare un miliardo di dati beh allora probabilmente se lo fa il database per me è meglio perché lo farà in maniera sicuramente più ottimizzata e non ho bisogno di lavorare un miliardo di dati nella memoria del codice che gira sul mio server web quindi la risposta è sempre un compromesso come abbiamo visto prima nell'esempio l'operazione di filtro per la data per gli esami la faccio fare al server del database o la faccio io nel codice facendo un select asterisco e poi ci penso io dipende nei nostri casi è spesso indifferente però in un caso realistico come dice lei dipende da diciamo devo valutare i pro e il contro ci saranno dei pro e dei contro nel momento in cui un giorno devo estendere un'operazione che non è supportata dal database vuol dire che mi riscrivo mezzo codice della logica applicativa del server web che ho messo nel server web però fino a quando non ne ho bisogno lo fa il server web e non devo scrivere una riga di codice in più che non sia nella query che non sia la query e quindi forse ha senso farlo fare al database e quindi bisogna un po' porsi questi problemi che è proprio uno degli scopi del corso noi non andremo a realizzare un'applicazione enorme però diciamo questi trade off bisogna porseli cercare di ragionarci sopra e decidere che cosa ha senso fare no un'altra cosa che su cui si può ragionare per esempio quando i dati sono pochi è anche ha senso esporli all'utente o no cioè io se realizzo un'applicazione voglio voglio che l'utente se va a trafficare a vedere che cosa passa sulla rete o aprire l'inspetto del browser eccetera sia in grado di vedere tutti i dati che io ho in un database o gli fornisco sempre solo i dati minimi di cui ha bisogno quando c'è bisogno che li visualizzi perché cioè i dati magari sono fatti miei della mia applicazione non voglio che siano esposti a tutti semplicemente e poi filtrati sul client semplicemente perché così scrivo scrivo il codice in maniera più semplice cioè ci sono anche aspetti pratici collegati non solo alla tecnologia ma anche al fatto che certe cose non devono arrivare nelle mani di certe persone dell'utente normale a meno che non sia quello l'amministratore del mio sito e così via ok spero di aver risposto abbastanza a questa domanda anche se appunto la risposta dipende però bisogna porsi questi quesiti e cercare di dare una una soluzione che sia ragionevole non ci complichi troppo il codice ma allo stesso tempo abbia senso nel nostro scenario applicativo ok bene per effettuare la comunicazione tra fronte e back end utilizzeremo potremmo utilizzare librerie di javascript ad esempio axios sì questa è una domanda molto specifica sì direi che non c'è nulla di male nell'utilizzarla ma vedremo che oramai diciamo le librerie la funzionalità a disposizione all'interno del browser standard che è la fetch di cui parliamo più avanti quando parliamo appunto dell'API javascript nel browser è già abbastanza sofisticata per i nostri scopi è vero che axios come altre librerie ci danno la possibilità di annullare la che so la la richiesta sincrona in maniera più semplice tanto per fare un esempio so che nessuno se non conoscete axios sto parlando di una cosa che potete ovviamente cancellare però tanto per dire però magari è una funzionalità che non usiamo nella nostra applicazione oppure vabbè magari siete appassionati di quella cosa lì volete provarla l'avete già usata sviluppate già siti web per conto vostro e così via va bene non c'è nulla di male nell'usare una libreria diciamo che ci facilita alcuni compiti anzi nelle regole di esame è già scritto credo cioè anche da un certo punto di vista incoraggiato sperimentare un pochettino in questo senso e chiaramente bisogna essere sempre consci di quello che uno sta facendo noi daremo delle indicazioni dove c'è necessità di usare qualcosa lo diciamo e dove non c'è necessità non diciamo nulla però se uno vuole provare ad utilizzare appunto qualche cosa messa a disposizione trova in rete l'importante è che non ci sia figlia delle librerie sconosciute instabili eccetera che dopo domani non funzionano più che sono la versione 0.1 e così via che appunto poi non so quanto risolvono il problema più che introdurne di nuovi però Axios ovviamente non è uno di questi casi ok quindi ultima parte pattern architetturali quindi dato questo sistema c'è il client c'è il web server e c'è la parte di persistenza dei dati come faccio funzionare la mia applicazione il modo tradizionale fino a poco tempo fa a parte il caso diciamo estremamente base che era quello tutto statico e quando hanno inventato il web Tim Berners lì quello del CERN che ha inventato il web aveva una serie di documenti statici l'unica cosa che c'era erano dei link da cliccare quello caso statico c'era tutto il sistema l'area di persistenza era il file system c'era un mapping uno a uno dall'url al file fine nel momento in cui vogliamo realizzare applicazioni web cosa succede succede che sul lato server ogni url viene mappato un certo un certo programma da eseguire che mi genera del contenuto dinamicamente sulla base di quello che c'è nel layer di persistenza nel database in altre cose e così via altre cose dico che so su server di email eccetera accedete alla vostra email il server web va a chiedere dammi la lista delle prime 20 mail ve le formate in una tabellina e ve le dà in formato html questo è lo schema classico cioè url web web server capisce che deve andare a chiamare un programma il programma fa le sue elaborazioni produce un contenuto html che cambia a seconda di cosa ha trovato questo è il cosiddetto server side rendering ed è un'applicazione cosiddetta multipagina perché nel momento in cui ho bisogno di una nuova vista ok dalla mia email clicco su un'email e voglio vedere cosa c'è scritto c'è un nuovo url c'è una nuova richiesta si arriva sul server c'è un nuovo programmino parte sempre della stessa applicazione ma quello è il programmino incaricato di rispondere a quello specifico url che corrisponde alla visualizzazione della pagina che visualizza l'email e lui andrà a caricare quella specifica email dal server di posta e mi visualizzerà l'intestazione il testo eccetera e creerà una pagina diversa dalla precedente che contiene il mio contenuto ok quindi il meccanismo è questo un po' più complicato di prima quindi c'è il nostro browser richiesta eventualmente con i parametri viene interpretata logica si va nel database server nel server dell'email tutto quello che volete si va a recuperare le informazioni queste informazioni vengono create e messe in una pagina in formato html oppure formattate in un'altra maniera rispedite indietro e visualizzate ed eventualmente possono essere processate dalla parte client side con il nostro linguaggio di programmazione javascript perché quello che vi ho detto prima ok è veramente la base se vogliamo aggiungerci un pezzettino in più se in ogni pagina aggiungiamo del codice javascript come in questo caso possiamo gestire una minima interazione con l'utente e mano a mano questo paradigma si è evoluto nel modo di nel nel senso di andare anche a modificare alcune parti della pagina il javascript ha la possibilità di accedere al DOM la possibilità di cambiare il contenuto della pagina il modo in cui viene visualizzata e così via ha la possibilità di effettuare richieste di rete e quindi a fronte di qualcosa che capita sulla pagina potremmo anche decidere di non caricare una nuova pagina ma semplicemente di andare a mandare una richiesta verso il server che scatena l'esecuzione di qualcosa che mi ridà dei dati questa volta in un formato un po' diverso perché non deve più visualizzare il browser ma l'interpreto direttamente il mio programma quindi noi parliamo di JSON ma c'è l'XML c'è tanto altro modo di rappresentare i dati anche solo testo potrebbe essere quindi usando questo canale di ritorno che qui è tratteggiato perché in realtà passa per il browser ma semplicemente non è interpretato dal browser per questo facciamo passare qui fuori va nel codice JavaScript il quale lo elabora con le sue logiche processando le stringhe i caratteri tutto quello che riceve e va a modificare il contenuto della pagina e quello che succede quando voi siete su Google vi faccio vedere facciamo proprio l'esempio google.com pagina URL questo è l'URL fisso apriamo l'inspect così ci abituiamo network questo è quello che viene caricato caricato della roba vabbè ho caricato la pagina all'inizio scrivo un carattere notate che viene trasmesso qualcosa al server e questo viene fatto dal JavaScript che sta girando nel mio browser che sta reagendo degli eventi che io ho creato l'evento di aver premuto un tasto viene mandato qualcosa al server adesso non so quale sia se sarà questa dell'informazione al quale il server mi ha dato una risposta e di solito la risposta è la lista delle cose da visualizzare la pagina però è fissa è sempre quella lì è sempre lo stesso URL ok quindi stiamo parlando di una situazione che stiamo fondamentalmente usando tutti i giorni ok no quasi un passo in più visto che abbiamo delle pagine che vengono modificate già dal JavaScript a fronte del verificarsi di eventi sul client premo dei tasti clicco faccio eccetera no portando all'estremo questo paradigma arriviamo alle cosiddette single page application dove io la pagina la carico una sola volta all'inizio quindi metto l'urla il browser va a fare la sua classica richiesta carica tutto ciò che c'è tutto ciò che è necessario all'inizio quindi carica l'HTML il CSS il JavaScript il JavaScript sarà un JavaScript abbastanza esteso perché sarà in grado di gestire tutta l'interazione con l'utente e eviterà che l'utente debba cliccare su dei link per caricare altre pagine semplicemente intercetterà tutti gli eventi che devono far cambiare l'aspetto alla nostra applicazione andrà a fare le richieste al server chiedendo i dati necessari ad aggiornare la visualizzazione e aggiornerà la visualizzazione quindi la pagina non viene più ricaricata questo è il paradigma della single page application ok quindi il server spedisce sempre la stessa identica pagina per ogni URL e quindi una single page application fondamentalmente è un unico URL che è quello iniziale e insieme a quella pagina viene scaricato tutto il codice JavaScript che è in grado di gestire tutta l'interazione con la nostra applicazione poi non è che tutto si sa all'inizio perché se poi io chiedo clic dammi la lista di tutti i corsi clic dammi voglio fare non so dammi la lista di tutti qual è il mio piano di studi qual è non so dammi la lista di tutte le tesi eccetera è chiaro che la visualizzazione deve cambiare e i dati non ci sono e devono essere recuperati da qualche parte ma se ne occupa il JavaScript che gira localmente va a fare la richiesta e il server web restituisce solo i dati non più la pagina se ne occupa il JavaScript localmente di creare l'impaginazione la visualizzazione e tutto quanto questo è il paradigma che useremo per le nostre applicazioni quindi è un'evoluzione dell'applicazione tradizionale di prima dove c'era la logica sul server prima e adesso con la single page adesso nel senso nel paradigma single page application tutta la logica fondamentalmente sta sul client e il server serve solo come meccanismo per fornire dati a parte all'inizio in cui devo fornire il programma JavaScript quindi tutto il codice JavaScript una versione iniziale della pagina minimo che serve per l'HTML CSS e così via quindi di fatto per esempio quello che vi succede in Google Docs non riusciamo a vedere Google Docs andando a aprire l'inspector sono applicazioni abbastanza complicate quelle poi che fanno tante cose però l'idea è quella avete sempre la vostra pagina tutta l'interazione voi scrivete viene salvato sul server salvato sul server ma senza andare a ricaricare la pagina se vi ricarica la pagina vi azzera lo stato della vostra applicazione non è che sia tutto semplice con le single page application ci sono anche cose che diventano più complicate perché i motori di ricerca sono abituati a ragionare in termini di pagine se io ho solo più una pagina magari non riesco ad essere ben indicizzato quindi SEO sta per search engine optimization quindi fare in modo che il motore di ricerca sia in grado di capire di che pagina ha fatto il mio sito e quindi indicizzare tutto quello che è necessario l'history non funziona più il bottone indietro non funziona più perché non c'è niente da andare indietro c'è solo una pagina però per fortuna ci sono delle API all'interno del browser con le quali possiamo simulare queste azioni c'è una questione di sicurezza se tutta la logica è nel client bisogna fare un po' attenzione perché non ci sia qualcuno che magari va un po' diciamo pacioccare sul nel codice e va a caricare qualcosa che non dovrebbe quindi questo deve essere fermato sul server ragionando opportunamente in termini di sicurezza e poi fare tutto sul client può anche essere faticoso dal punto di vista del client perché ricreare tutta la pagina cambiare tutto eccetera può anche essere faticoso soprattutto oggigiorno che le reti di comunicazione sono veloci magari il server è più veloce più potente del client soprattutto quando il client è un dispositivo mobile e così via e quindi una cosa a metà sono queste isomorphic application in cui parte del rendering è fatto sul server però le nominiamo solo non entriamo in questi aspetti e diciamo che vogliamo solo fare un discorso completo e quindi alla fine come dire ok sappiate che non è che sia tutto single page application ogni tanto ci sono delle soluzioni miste oppure possiamo pensare progressi web application che sono applicazioni web che emulano le app native tipo quelle che abbiamo sui dispositivi cellulari eccetera cioè che mano a mano quando c'è bisogno caricano pezzi di codice di interfaccia eccetera per e quindi si comportano più o meno come le applicazioni sul nostro dispositivo mobile però girano all'interno di un browser cosa c'è in comune a tutto questo a qualsiasi ad ognuna scusate di queste filosofie che abbiamo visto prima single page application isomorph native app che tutte usano lo stesso sistema di accesso all'API cioè almeno questo layer l'accesso ai dati è comune perché se lo standardizziamo noi poi tanto ognuna di questo di queste parti di frontend gestirà la visualizzazione come crede ma diciamo la comunicazione per andare a recuperare i dati sarà uguale per tutti su http formato nel nostro caso json qui siamo un po' fuori tempo massimo ma abbiamo quasi finito qui è giusto per la vostra curiosità cosa fanno i maggiori siti che linguaggio usano sul frontend beh qui diciamo che c'è veramente poca scelta nel senso che nel browser gira javascript punto potreste essere curiosi di sapere cosa fanno nel backend come linguaggi e notate che c'è anche qualcuno che usa javascript non è che sia una cosa più strana o nod e poi database ovviamente qui non ci troverete sculite perché sculite per siti di questa dimensione è un giocattolo non può funzionare quindi ci troverete dei web server seri e dei database server seri ok quindi giusto per curiosità qui appunto se volete approfondire noi chiaramente non possiamo entrare in tutti questi dettagli perché se no non finiamo più per esempio non abbiamo detto niente di http2 che magari qualcuno conosce dal nostro punto di vista non cambia niente è solo una versione binaria di http ma diciamo quello che viene trasmesso dal nostro punto di vista in che modo non ci interessa i metodi sono gli stessi va bene se volete sapere come funziona un browser un po' più nel dettaglio potete andare a cercare qui è sicuramente uno dei software più complicati che ci sono in circolazione su nel computer perché fa mille cose come potete capire cioè è programmabile adentro un ambiente di esecuzione per seguire altri programmi quindi sicuramente un software complicato per natura ok se non avete dubbio domande dunque qui abbiamo finito e io direi che possiamo terminare qui per oggi vi ricordo lunedì c'è il laboratorio e adesso poi mandiamo qualche annuncio sullo slack quindi vado a vedere come sono diciamo che squadra avete formato e cerchiamo di schedulare queste squadre nei due turni di laboratorio se poi ci sono dei problemi o qualcuno ha problemi di orario o altri tipi di problemi insomma mi scrivete ci fate sapere in qualche maniera e vediamo di sistemarli ok direi che se non ci sono dubbi o domande appunto ci sarà lunedì il laboratorio ci sarà online la traccia del laboratorio prima di lunedì per cui se volete già provare a fare qualcosa che poi fondamentalmente potete usare un po' di javascript programmazione funzionale accesso a db che abbiamo provato a fare anche insieme potete provare a farlo e così sfruttate al meglio lunedì per chiederci diciamo di risolvere eventuali problemi oppure non so come si sarebbe potuto fare diversamente meglio fare in un certo maniera che in un'altra anche se le risposte di solito sono appunto quelle dipende però possiamo almeno provare a ragionare sul pro e contro delle varie soluzioni ok direi che non ci sono altri dubbi o domande e quindi direi che possiamo terminare qui vi ringrazio per l'attenzione e appunto ci vediamo lunedì ci sarò o io o il mio collega Antonio Servetti che quindi conoscerete lunedì sempre tutto online mi raccomando perché questa settimana siamo così penso anche per alcune prossime però in questo periodo del futuro molto difficile a prevedere va bene grazie e arrivederci a presto a presto a presto a presto a presto